Senti parliamo un po' di sesto, insomma arriva sta trasferta in questo Friday night abbastanza inedito se vogliamo qualcuno diceva thanks god it's Friday, possiamo sposarla questa cosa o no? Ma sì e no, diciamo che comunque ogni partita è a sé e quindi noi pecchiamo ancora in quello che è un po' la continuità per cui il giocare venerdì e il giocare su un campo impegnativo come quello di sesto può essere quello che fondamentalmente è un po' lo spirito di quello che troveremo a Salamanca e quindi ci va benissimo così, ci serve questa cosa, non penso neanche che sia una cosa di fatica, tensione o quando giochi queste partite le vuoi vincere, punto sappiamo che è un campo difficile e faremo quello che è giusto fare La partita contro Como è stata grande soddisfazione, qualcuno in maniera un po' ardita l'ha definita la miglior partita dell'anno anche se non siamo ovviamente d'accordo con questa lettura, certo è che il pubblico si è divertito insomma molti hanno scritto, un po' più commenti, insomma Famile è tornato però ecco la sensazione è che vista l'assenza di Chiara Pastore, di Ford nel momento della necessità insomma siete riusciti a venire fuori abbastanza bene Io penso che sia normale, innanzitutto smettisco questa cosa che basta una partita per giudicare la stagione di una squadra perché non basta una sconfitta o una vittoria, sicuramente il fatto di andare a imporci a sesto potrebbe essere un dare continuità ma non voglio che venga giudicata la squadra per una partita o per un atteggiamento in una partita piuttosto che in un'altra Ma questa squadra non è nuova al fatto che quando mancano delle giocatrici comunque importanti perché in questa squadra sono tutte importanti, la squadra si stringa ancora di più per cui Gianella ha fatto un'ottima partita, prende un sacco di rimbalzi dando continuità e agonismo in attacco per cui si vede da quello Sicuramente è una cosa che ci limita un po' il non avere i soliti 15, 16, 17 rimbalzi di Sheryl anche perché ha disabituato un po' noi ad andarci perché ormai è diventata veramente la leader incontrastata sotto canestro e il fatto di Chiara serve sicuramente per dare un po' di respiro anche a Liron che nonostante comunque la pressione e la fatica sta dimostrando di gestire bene questa squadra Ultima cosa, sesto è un po' minavagante, nel senso qualche difficoltà poi è capace però in casa di superare anche Taranto insomma squadra non facilmente leggibile forse quest'anno più negli anni passati Ma sesto è sempre stata, ha sempre fatto dell'agonismo un po' la sua caratteristica principale ha battuto in casa loro Taranto, questo non vuol dire che deve per forza battere in casa anche noi però diciamo che è una sfida importante perché noi vogliamo continuare sulla strada giusta per cui noi ci stiamo preparando, loro faranno lo stesso venerdì sera invece che andare al cinema verranno a vedere noi